Noi parliamo di innovazione, parliamo di innovazione spesso legato, quasi esclusivamente legato al mondo della tecnologia, cioè se non è un A è qualcosa, un I qualcosa, se non ha una spina e una batteria, non è innovazione. Mi piace condividere una cosa che ho imparato proprio ieri da un amico, Mirko Lalli, e ha tirato fuori un sondaggio americano che parla dell'innovazione che ha cambiato il modo in cui viaggiamo, l'innovazione più importante dell'ultimo secolo. Non è nulla che abbia una spina, che abbia una ricarica, non è un'app, non è una notizia online. In realtà l'innovazione che ha cambiato enormemente il modo in cui viaggiamo, il modo in cui abbiamo viaggiato tutto questo secolo, è il trolley, è la belligia con le ruote. Ma se noi pensiamo che la belligia esisteva già, le ruote esistevano già, la maniglia c'era già, 40 anni fa un genio è arrivato e ha messo tre cose insieme per fare qualcosa di completamente nuovo, di qualcosa di completamente innovativo. L'innovazione oggi è spesso legato ai social media, è spesso legato sì alla tecnologia. Io credo che l'innovazione che noi abbiamo apportato con il nostro progetto di Digital Diary è obbligare il nostro utente finale, che è la pubblica amministrazione, di eliminare sempre il copyright dalle immagini. Questo è essenziale in ogni racconto per la diffusione, per la libera diffusione del materiale che noi produciamo. Noi lo obblighiamo sempre e il messaggio funziona, il messaggio funziona perché quello che riusciamo a fare è abbassare notevolmente il costo per contatto, ad arrivare ad una frazione di quello che è il costo contatto solitamente per una normale pubblica amministrazione. I numeri ci confermano che abbiamo fatto questo anche in Fluenza Giulia attraverso il progetto del Diario Digitale. Ma ci deve essere una condivisione libera attraverso l'intera filiera, attraverso l'intero sistema turistico di tutto quello che viene prodotto. Quindi le fotografie e i video non possono essere semplicemente il patrimonio del cliente finale, devono essere il patrimonio dell'intera filiera. Noi dobbiamo essere in grado di regalare e di dare l'opportunità anche al piccolissimo imprenditore al bed and breakfast, al bar, alla guida alpina, di migliorare a sua volta il suo messaggio che va online. Facendo questo veramente dal bottom up, condividendo tutto quello che facciamo e ovviamente consegnando tutto il prodotto finale al nostro cliente finale, che è la regione Fluenza Giulia e il turismo per il Fluenza Giulia, io credo che una micro, nano, innovazione siamo riusciti ad apportare in questa meravigliosa regione.